Colpiti in maniera insomma un atto vile, barbaro. Assalto al campo prove del quartiere di Porta del Foro, uno dei quattro storici quartieri di Arezzo, protagonisti della giostra del Saracino. Una banda si è infatti introdotta all'interno del campo in località Petrognano alle porte della città ed ha portato via l'intero impianto di illuminazione a led di ultima generazione. Venerdì praticamente i ragazzi delle scuderie con lo staff tecnico sono venuti qui al campo prove per risistemare in vista dei preallenamenti e hanno trovato come vedete questa brutta sorpresa. Praticamente tutti i pali diverti a terra con i fili staccati hanno rubato tutti i led dei pali che servivano a illuminare in vista appunto della giostra di giugno che è in notturna. Per mettere a segno il colpo i banditi hanno piegato i pari ed hanno portato via i faretti circa una decina e di cavi dell'impianto. Per noi è un danno ingente, si parla di migliaia di euro e non solo, ci hanno raccontato poi, diciamo chi passava di qua, che hanno trovato anche fuori dall'ingresso anche dei borselli, dei portafogli con carte di credito senza documenti gettati lì all'ingresso. Non si tratta infatti dell'unico colpo messo a segno nella zona. Nei dintoni è stata colpita anche nei vari furti nelle case, qui come vedete in editore non c'è veramente nulla, quindi è anche difficile insomma da tenere d'occhio e niente, speriamo insomma di rialzarci presto ma sicuramente lo faremo.